L'Andrangheta è alla sbarra nel più grande processo mai allestito, quello contro le infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna. È iniziato ieri nell'aula super blindata del padiglione 19 della Fiera di Bologna, in piazza della Costituzione, l'udienza preliminare della maxi-inchiesta Emilia. Presente anche il presidente della regione Stefano Bonaccini, che ha chiesto di costituirsi parte civile. Sono in tutto una trentina le richieste, in maggioranza sono enti o societazioni, mentre solo quattro per ora sono i privati cittadini che hanno chiesto di costituirsi in riferimento a capi di imputazione che li vedono come danneggiati. 219 gli imputati nel processo contro il clan Grande Aracli di Cutro. Nove di loro sono rinchiusi nelle carceri speciali di massima sicurezza e per questo parteciperanno al processo collegati in videoconferenza da mezza Italia. Altri 35 sono stati invece accompagnati dal carcere della Dozza con un pullman e due cellulari. È un avvenimento senza precedenti per l'Emilia Romagna, per i numeri e per le dimensioni del processo. In Emilia la Cosca e i suoi alleati avevano messo le mani su tutto a iniziare dagli appalti per la ricostruzione post-terremoto, cercato di condizionare lezioni amministrative in diversi comuni per pilotare le istituzioni come fossero state burattini. Dentro l'aula da 500 posti si è donna in mamma santissima della Cosca Grande Aracli. Ci sono i loro picciotti, i prestanome, i professionisti e i politici che con loro hanno fatto affari. Alla sbarra c'è il sistema dell'andrangheta che nel giro di dieci anni si è presa parte dell'Emilia Romagna. Ci sono i bossi e i reggi panza che hanno trasformato parte della provincia di Modena, Reggio Emilia e Parma in una succursale di quella di Crotone. Stesso metodo e stesse tecniche utilizzate in un qualsiasi mandamento della punta dello stivale. La direzione distrettuale antimafia di Bologna ipotizza reati per 189 diversi capi di imputazione. Si va dalla associazione a delinquere di stampo mafioso, alle istruzioni, dalle minacce, all'usura, dall'intestazione fittizia di beni, al falso in bilancio. Dalla turbativa d'asta alla corruzione elettorale. Per finire poi su tutto una serie di reati di diversa natura, Emilia è un'inchiesta che resterà nella storia, non solo per i numeri ma soprattutto per chi ha portato a galla il marciume, insito in una regione che fino a poco tempo fa si considerava immune dagli attacchi indranghetisti. Così evidentemente non è.